Vorremmo farle un po' di domande su questo spettacolo che ho appena fatto, sulla sua formazione internazionale. Che formazione artistica ha avuto? Allora, anche se può sembrare strano, io venno dal mondo del banco d'occhio, quando avevo meno di vent'anni, la mia esperienza musicale, diciamo così, è iniziata con lo strumento basso, e ho cominciato a cementarmi nella qualità di bassista a banca all'inizio. Poi, diciamo, con gli anni mi sono avvicinato anche al genere contaminato, tipo l'albancard core, arrivando anche addirittura alle vienette. È successo in pratica, ho cominciato poi a distrarre l'attenzione verso altri generi, non per forza cantautorali, in realtà, generi insomma di più estesa, di dimensioni artistiche un po' più sofisticate. Fino a che un giorno, così, per diletto, ho cominciato a scrivere dei testi. È successo che, in primi anni 2000, ho cominciato a lavorare nel mondo della musica, ma come organizzatore di concerti, e ho fatto una conoscenza. Ho conosciuto Roberto Fricandoni, il leader degli Schiantus, e siamo diventati ottimi amici. E un giorno, avendo questi testi in mano, che raccontavano la mia terra, raccontavano il nord-est, secondo me, ho preso il coraggio di un'anni e proposi questi testi. In effetti, mi disse, Fabio, scrivi delle cose interessanti, solo che io non posso cantare queste cose, perché io vengo dall'AMS bolognese, quindi una realtà culturale completamente diversa. Se vuoi, creiamo un paradosso, ovvero la voce del nord-est e la voce della violentissima Bologna, dal punk rock, da otto anni e intanto, la portiamo insieme su un po' di scena. E da lì abbiamo creato questo spettacolino che si chiamava, anche troppo con i vostri orecchi, per ben 36 volte a San Roberto Fricandoni, ho calcato i palchi del nord Italia. Ho imparato un po' i metodi della comunicazione e anche dell'ironia serenale. Poi, purtroppo Frici si amava, la cosa ci rivise, e mi feci una promessa, quello di incidere un disco e di continuare a passare. Così, da lì poi, che era iniziata la mia carriera fondautorale, sulla base di questo pubblico. Quindi lei ha già avuto altre esperienze nel mio canale di un altro con il Pordenonese? Beh, io e Massimo, a Semigliano, ci conoscevamo prima. Lui è uno scrittore pordenonese molto conosciuto e io diciamo meglio la pordenonese. I Friuli vengo descritto un po' come il cantore del nord-est, quello che racconta un po' la storia della vita per aria, oppure la trasformazione sociale del nord-est. Sembrava abbastanza ovvio e compatibile che queste due voci si venissero incontro per creare questo spettacolo. E abbiamo creato ormai un anno fa Solitari Padani Umani, che semplicemente è un incrocio di intenzioni e di idee tra due che hanno la stessa visione su quello che riguarda il nostro territorio. E qual è il momento dello spettacolo che le vive più intensamente, dal suo punto di vista? Beh, ce ne sono molti. Forse c'è una parte centrale che racconta perché il nord-est come l'abbiamo vissuto, come lo stiamo vivendo e come lo vivremo. E c'è una parte molto desolante, una visione futurista abbastanza drammatica che mi emoziona molto forse perché effettivamente come la sensazione che corriamo il rischio, che queste cose che Massimiliano racconta in maniera fantasiosa si possano avverare. Al di là di questo, insomma, speriamo di no, speriamo che ci sia un riscatto sociale per cui poter partecipare con gioia e che le cose andranno bene. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.